Situazione difficile da tenere sotto controllo anche a Ravenna. Il maltempo, in particolar modo nella giornata di ieri, ha creato criticità della costa per lo stato del mare e i venti forti. Il sindaco Michele De Pascale ha attivato il centro operativo comunale e il volontariato di protezione civile in caso di intervento di soccorso e assistenza. Una situazione che è tenuta costantemente monitorata, in particolar modo nei Lidi Sud, in particolare Lido Adriano, acqua presente nella sede stradale di Marina di Ravenna, ma anche a Lido di Dante, dove il mare si è mangiato la spiaggia e l'acqua è arrivata fino alla pineta. La velocità del vento è stata forte per tutta la serata, seppur in miglioramento durante la notte. Le forze dell'ordine, la polizia municipale, i tecnici volontari della protezione civile hanno costantemente controllato la zona lungo la costa, situazione che sarà uguale anche nelle prossime 24-48 ore.